come questo portante della 249, nessuno si è fermato, cerchiamo di ragionare, perché vedi, molte persone pensano che portare più io offro, più la busta è importante, invece non è così, se io offrirei tanto solamente a chi pesca bene e poco a chi pesca male, mi fregherebbero tutti, quindi lei da quella parte può dire, io mi fermo, accetto, guadagno, anche se là sotto c'è molto, io la faremo e faccio lo stesso, dammi quella cartella e ti offro come prossima offerta, ti pago, una macchina che fa il caffè come questa che fa il caffè, ascolta, la macchina del caffè più le posate, tutte e due insieme, la macchina del caffè che vale 120 euro più le posate sono 250, se io gli aggiungo anche un fond per capelli da 50 euro sono 300 euro, insieme al fond per capelli anche le pietole da 100 euro sono 400 euro, sì, almeno per una di quelle, due, ne hai due, dammi la 5, niente, allora passiamo così, vado avanti, per quella numero 5, ok, almeno la 5, eh, dico io, no, vado avanti, lo vuoi un cellulare come questo, un LG, ti piace questo il Motorola, eh, vale 200 euro anche il V3, no, niente da fare, ti piace il Samsung ultra piatto, la sottiletta da 9 mm e 8, no, niente da fare, ti piace questo Samsung, molto bello, vale 300 euro anche questo per me, non vuoi neanche questo, niente da fare, ti piace questo LG da 3,99, niente, la 5 va in fondo, non c'è niente da fare, va alla fine e qua sotto a tenere, c'è pochissimo, pochissimo, ancora il peluche, ai, 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 Grazie a tutti.